Musica Ancora sangue sui cantieri del Sannio, alla stazione ferroviaria un uomo precipita da un'impalcatura di un palazzo in costruzione e perde la vita. Si ripropone il tema della sicurezza, mentre i sindacati sollevano la questione morale e l'applicazione delle norme in materia. Le dimissioni del sindaco di Benevento Mastella aprono la stagione delle strategie e dei posizionamenti. Voto di primavera tra le opzioni possibili, mentre sullo sfondo si staglia la votazione sul bilancio preventivo che potrebbe essere approvato dal commissario di governo. La vicenda amara dell'ex isochimica di Avellino e le 29 morti legate alla presenza diffusa di Amianto. In attesa dell'avvio del processo nei confronti dei responsabili aziendali, sindacati e operai discutono delle nuove opzioni di rilancio dello stabilimento. A Piazza Risorgimento a Benevento, il camper della regione Campania inverte la marcia contro il cyberbullismo a bordo di un track. L'incontro con gli studenti sanniti per sensibilizzare sul tema. Tra gli ospiti, l'assessore regionale alla formazione Chiara Marciani è importante e dice che i nostri ragazzi non si sentano soli. Ben trovati, ben trovati a questa nuova edizione del Lab News. Tragedia a Benevento, un operaio è morto dopo essere caduto da un'impalcatura alta circa 4 metri, mentre lavorava in un cantiere all'interno della stazione ferroviaria centrale di Benevento. Vediamo. Un volo di 4 metri che non ha lasciato scampo all'operaio di 58 anni di Afragola che stava eseguendo dei lavori alla stazione centrale di Benevento. L'uomo stava effettuando dei lavori edili a ridosso dei binari per la costruzione di una nuova struttura che dovrebbe ospitare degli uffici in via Mura della Caccia a Benevento. L'operaio, per cause ancora in corso di accertamento, deve essere scivolato battendo violentemente la testa al suolo. L'impatto si è rivelato fatale e a nulla sono valsi i tentativi di rianimare l'uomo da parte del personale del 118. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilevi necessari ad accertare l'esatta dinamica del tragico incidente sul lavoro. Si tratta del primo caso a Benevento nel 2020, ma in termini di morti bianche il sannio aveva pagato il suo drammatico tributo anche nel 2019. Lo scorso anno, su 59 persone che hanno perso la vita in campagna mentre svolgevano il proprio lavoro, quattro erano sannite. Dimissioni del sindaco Mastella, una situazione di incertezza che avvolge la città nei venti giorni che passano tra la lettera di dimissione e la conferma di quest'ultima. Le dimissioni del sindaco Mastella protocollate ieri mattina. Un messo comunale ha provveduto a fare raspola tra l'abitazione del sindaco e Palazzo Mosti e così dopo tre anni e otto mesi da quel giugno 2016 il sindaco pone fine momentaneamente alla sua avventura al timone della città. Una crisi extra consigliare dai connotati ancora non del tutto chiari, innervati dal racconto mastelliano della intollerabilità del comportamento di molti suoi consiglieri e dall'esigenza di rompere gli indugi e chiamare la città forse al voto anticipato. Saranno venti giorni di estremo interesse, alla fine dei quali capiremo quali saranno le reali intenzioni del sindaco dimissionario. Nel frattempo si registra la posizione del capogruppo Battista Sguera che critica la extra consigliarietà della crisi. Per quanto riguarda i numeri in consiglio a me sembra che una maggioranza ci sia e sia anche abbastanza ampia almeno dalle dichiarazioni che molti consiglieri di maggioranza hanno fatto di quelli che lo hanno sostenuti fino ad ora. Da parte nostra abbiamo anche detto che siamo sempre pronti a discutere in tutti i consigli comunali che ci saranno di tutte le questioni amministrative che ci verranno sottoposte per cui sinceramente ragioni di natura politica in senso stretto io non riesco a coglierle. Attraverso le colonne social la posizione politica di Angelo Moretti subito rintuzzata dalla replica del coordinatore provinciale di Forza Italia Mauro, un botta e risposta che proietta ineludibilmente lo stesso Moretti in una dimensione meramente politica della sua attuale condizione. Ritengo che il Benevento non deve assolutamente assuefarsi ad atteggiamenti del genere. Non sappiamo nulla cosa accadrà in futuro, quindi può darsi che Mastella ritirerà le sue dimissioni, può darsi che continuerà o che lascerà questa sua carica, ma non è questo il dato. Il dato è che in questa città non può accadere che il Comune debba lavorare per il Sindaco di domenica perché il Sindaco ha deciso di dimettersi di domenica e noi leggiamo queste notizie come se fosse normalità. No, non è niente normale. Sulle dimissioni del Sindaco dice la sua anche il portavoce di Fratelli d'Italia Federico Paolucci che a proposito del ricostituito centro-destra esprime la posizione del suo partito che per ora è di attesa. Federico Paolucci, era molto atteso questo happening di Roccaraso con i vertici nazionali di Fratelli d'Italia perché bisognava dare una risposta anche ad un interrogativo che è sul tappeto e cioè se Fratelli d'Italia è disponibile ad accettare la proposta di Mastella di ricreare un centro-destra anche senza la Lega ma capace insomma di essere rappresentativo anche per le regionali e anche ovviamente per le comunali. Quali sono le novità che possono emergere da questo confronto? Che sono emersi da questo confronto? Ma diciamo che sulla linea del centro-destra è notorio che Fratelli d'Italia è d'accordo a formarli in ogni parte d'Italia. Non c'è ancora una decisione rispetto alla candidatura di Mastella o di chi che sia anche perché mi sembra abbondantemente prematuro, peraltro credo che bisogna tener conto di questioni regionali, di questioni nazionali ma anche e soprattutto della situazione locale. È ovvio che noi siamo dei partiti, non siamo gruppi civici e quindi dobbiamo tenere conto di queste dinamiche interne e dinamiche di coalizione che stiamo curando. Non abbiamo pregiudizi, certo che possiamo per ora dire due cose. Le dimissioni del sindaco per le motivazioni adotte hanno determinato in qualche modo una vittoria politica per Fratelli d'Italia. Avevamo sempre contestato che il gruppularismo civico non funzioni e questo è stato il motivo adotto per le dimissioni. Il secondo elemento è che la città ha bisogno di una rivoluzione, comunque sia, qualunque sia ciò che emergerà dal punto di vista delle candidature, ma certamente sul piano programmatico la città ha bisogno di una rivoluzione e se parliamo di candidature noi ci candidiamo a rappresentare la spinta perché questa rivoluzione della città avvenga. L'intervista integrale a Federico Paolucci andrà in onda in uno speciale subito dopo il telegiornale alle 20. Ex isochimica vittime dell'amianto, questa mattina assemblea al circolo della stampa di Avellino per avviare un nuovo percorso. Assemblea degli ex lavoratori dell'isochimica al circolo della stampa di Avellino che insieme ai sindacati si sono confrontati sui 30 prepensionamenti mancati per gli ultimi 30 operai attualmente esclusi ma inabili al lavoro per patologie asbestocorrelate. Dopo la 29esima vittima e l'ultimo rinvio di un'udienza nell'aula bunker del Tribunale di Napoli, sul tavolo ci sono anche uno screening sanitario per quante hanno scoibentato a mani nude l'amianto dalle carrozze delle ferrovie dello Stato e il pressing sul governo sull'intera vicenda. Dovremmo vedere con il decreto attuativo se dentro la discussione che portiamo avanti sulla riforma generale previdenziale ci sia questo stralcio che è fondamentale perché le risorse comunque ci sono. Se i cittadini, il popolo, questa storia l'avesse fatta propria con più forza anche per i bene non solo del territorio ma dei propri figli probabilmente le istituzioni che sono votate dai cittadini si sarebbero comportate diversamente. Nei giorni scorsi di Fondazione Comunista ha anche sollecitato il Ministro Costa e la prossima settimana incontrerà il suo segretario, riflettori puntati sul procedimento giudiziario, i prepensionamenti e le valutazioni dell'Inail. Questo processo è nato già in modo tardivo in cui molti responsabili di questa vicenda non ci sono, altri ne stanno uscendo limpidamente senza nessuna assunzione di responsabilità però nel frattempo gli operai continuano a morire e ci sono ancora 30 operai che aspettano ancora a quello che è un loro diritto, che è il pensionamento anticipato. Io penso che l'Inail, come abbia fatto in tutti questi tre decenni, continua a insabbiare la verità e continua a non assumersi le sue responsabilità. Infine Simeone parla di una situazione indegna e invita gli enti a non palleggiarsi i terre e responsabilità. Il processo viene rinviato sine die con questioni veramente ambientali che non sono manco degne di un paese che deve rispondere a gente che continua a morire per aver fatto un'attività a favore di un'azienda di Stato. Il processo è là che deve solo definire le responsabilità e quantificare i danni e nel frattempo c'è gente a cui viene sistematicamente costruito un percorso e altrettanto sistematicamente chi viene smontato da altri. Gli enti continuano a palleggiarsi sulla vita della gente. Arriva l'ordinanza anti-smog del sindaco di Avellino. Festa che punta sui filtri e abbattimento dei fumi per forni e caminetti. Qualcuno l'ha già ribattezzata l'ordinanza anti-pizza, vista i contenuti e gli obiettivi sui quali si è puntato per combattere gli sforamenti delle polveri sottili che ad Avellino hanno raggiunto quota 20. Un'ordinanza anti-smog molto diversa da quelle del passato che non fissa blocchi alla circolazione dei veicoli ma controlli sulle emissioni. Non guarda alle temperature degli impianti di scaldamento ma all'abbattimento dei fumi e soprattutto si rivolge alle attività che producono pane, pizze, alimenti nei forni a legno o a biomasse legnose per farli mettere in regola rispetto a filtri e apparecchi che ne miticano l'inquinamento entro il prossimo 31 maggio. Il dispositivo tanto atteso è stato firmato dal sindaco, pubblicato dal sito web del comune di Avellino ed è già in vigore. L'unico vero divieto è stato disposto sugli abbruciamenti dei residui agricoli almeno fino a fine febbraio. Inoltre, come per i forni a legno, di pizzerie e panifici, anche gli impianti di riscaldamento domestici i cammini dovranno essere dotati di abbattitori e filtri mentre il materiale utilizzato per la combustione dovrà essere certificato e gli stessi impianti sottoposti a manutenzione periodica e controlli. Di confronti dei veicoli in circolazione, infine, saranno effettuate delle verifiche campioni a cura dei vigili urbani attraverso l'opacimetro che permette di misurare la quantità di CO2 nelle emissioni derivanti da idrocarburi e gas di scarico. I dati rilevati dovranno rispettare i valori limite delle rispettive carte di circolazione. Chi non sarà in regola sarà passibile di una multa di 87 euro e dovrà sottoporre il suo veicolo ad una revisione straordinaria presso l'Ufficio della Motorizzazione Civile mentre chi non rispetterà i punti precedenti sarà punito con una sanzione di 250 euro. In pratica, nel dispositivo, nessuna misura di efficacia immediata se si esclude lo spostamento del terminal busso da Piazza Kennedy allo stadio Partenio Lombardi che il sindaco cita come primo atto per arginare gli sforamenti di PM10. La maestra di Benevento colpita dieci giorni fa da meningite è fuori pericolo. L'attacca al cervello è escluso da anni ma la trentenne dovrà restare ancora sotto osservazione. È fuori pericolo la maestra d'asilo colpita da meningite batterica dieci giorni fa. La donna, una trentenne beneventana, si era sentita male al rientro da scuola. Un malessere che inizialmente aveva fatto pensare all'influenza, una condizione poi aggravata da convulsioni che hanno reso necessario il ricovero urgente all'ospedale Rummo. Al nosocomio sannita la diagnosi terribile, meningite batterica, da qui il trasferimento in elicottero all'ospedale Cotugno di Napoli dove la maestra è rimasta in coma farmacologico fino a quando ha iniziato a respirare autonomamente e a riprendere finalmente conoscenza. Stubata e finalmente cosciente è stata sottoposta ad un attacca al cervello per verificarne le condizioni di salute. L'esame strumentale non ha evidenziato danni cerebrali. La giovane maestra e mamma di un bimbo di solo un anno sottoposto a profilassia antibiotica come tutti i bambini dell'asilo resterà ancora in osservazione per il tempo necessario a scongiurare ogni tipo di problema. Nel carcere minorile di Airola un detenuto ha tentato il suicidio ingerendo dell'ammorbidente per il bucato. Il giovane recluso nel penitenziario minorile è stato salvato dalla polizia. La notizia è stata diffusa dal sindacato autonomo polizia penitenziaria. Il detenuto aveva bevuto dell'ammorbidente ma il tempestivo intervento degli agenti con le manovre di primo soccorso gli ha salvato la vita. Il giovane è stato poi trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Rummo di Benevento. Inverti la marcia il progetto della regione Campania contro il cyberbullismo a bordo di un track per incontrare gli studenti. Prima tappa a Benevento. È partito da Benevento in piazza Risorgimento il tour del track della regione Campania per dire basta al bullismo e cyberbullismo. Inverti la marcia è il messaggio che sarà replicato il 4 febbraio a Caserta e poi ad Avellino, Napoli e Salerno. Il senso del progetto itinerante è quello di arginare il circolo vizioso di comportamenti aggressivi e vessatori. Una maniera diversa per coinvolgere i giovani della nostra regione con incontri magari mirati, quindi non tutti insieme ma con piccoli gruppi in modo tale da avere dei colloqui più interattivi e sottolineare quello che può essere un tema importante con i nostri ragazzi il peso delle parole. Quindi abbiamo chiesto anche all'ordine dei giornalisti e alla Commissione Pari Opportunità di aiutarci per sostenere e spiegare ai ragazzi che magari parole usate con troppa leggerezza possono far male e lavorare insieme a loro e suggerire una sentinella attiva un lavoro costante da fare durante tutto il corso dell'anno scolastico. Sul Megatear sono state svolte attività volte proprio a comprendere il fenomeno del bullismo spesso celato dietro un nickname. Sono intervenuti i professionisti delle commissioni Pari Opportunità dell'Ordine dei giornalisti della Campania con il progetto Parole in Ordine. Chiara Marciani, assessore alla formazione, alle pari opportunità. Noi insieme a questa settimana abbiamo finanziato 31 progetti che saranno attivi durante tutto il corso dell'anno insieme ad associazioni ed insieme anche ad altri settori che possono essere efficaci nel contrasto al bullismo. Penso ad associazioni sportive, sport di squadra che sicuramente sono molto importanti per creare gruppo nei nostri giovani e aiutarli a contrastare. Quindi cercare di fare veramente un lavoro di squadra e di invertire la marcia come è il motto di oggi facendo in modo che nessuno si senta solo. Non solo chi è vittima di bullismo ma magari anche il bullo che naturalmente va aiutato e sostenuto per uscire da queste che possono essere dinamiche che causano un circolo vizioso. Una settimana dalle due facce è quella che si appresta ad arrivare. Un inizio all'insegna di sole e caldo anomalo poi spazio a temperature polari e neve a bassa quota. Un'ondata di caldo anomalo è in arrivo su tutta l'Italia in particolare sulla Campania altro che i giorni della merla ovvero i giorni più freddi dell'anno. In questo 2020 si tratterà di giornate particolarmente calde in tutta la penisola con punte di 20-22 gradi al meridione. Stiamo per vivere una settimana dunque da due facce completamente opposte. Se nelle prossime 36 ore il clima sarà decisamente primaverile su gran parte delle regioni successivamente l'ingresso di venti più freddi dal polo nord cambierà totalmente le carte in tavola. I meteorologi assicurano la presenza dell'anticiclone africano al centro-sud e di venti al nord-ovest che faranno schizzare le temperature massime oltre 20 gradi fino a 25 su alcune zone interne della Sicilia 20-21 gradi in Puglia, Campania e Sardegna fino a 18 gradi nel Lazio e in Toscana qualche grado in meno invece dove ci sarà la presenza della nebbia a un vero in Emilia, in Veneto e parte della Lombardia. Il bel tempo e il clima mite continueranno anche nella giornata di martedì 4 febbraio almeno fino al primo pomeriggio poi comincerà l'irruzione polare. I meteorologi avvertono che nel corso del pomeriggio venti via via più forti di Maestrale e poi di Tramontana faranno peggiorare il tempo su alcune regioni piogge temporali, locali grandinate e nevicate. La neve inizierà a cadere dai 1500 metri ma entro sera raggiungerà le colline fino a 600 metri. Mercoledì venti forti di Tramontana flagelleranno gran parte delle coste italiane il maltempo si accanierà su Abruzzo, Molise, Puglia e Irpinia alcuni tratti della Basilicata e sui settori nord-orientari della Sicilia. La neve sotto forma di bufere cadrà sopra i 4-600 metri. E c'è l'allerta meteo della protezione civile regionale su tutta la Campania per venti forti da nord-ovest a partire dalle ore 16 di domani pomeriggio martedì 4 febbraio e fino alle ore 16 di giovedì 6 febbraio. E adesso andiamo a Montevergine in provincia di Avellino per l'edizione 2020 della Candelora. Pullman, funicolare e mezzi propri per la festa della Candelora e il piazzale, il santuario di Montevergine letteralmente invaso da migliaia di pellegrini devoti di mamma schiavona, femminielli e curiosi tammorre, paranze e preghiere per accompagnare un evento che da sempre è un perfetto mix tra sacro e profano. Un appuntamento che unisce la devozione religiosa ai messaggi contro la discriminazione sessuale mostrando in particolare solidarietà alla comunità LGBT. Proprio quest'ultima, presente in maniera massiccia all'edizione 2020, si rivolge alla Madonna di Montevergine per chiedere pace e amore ma soprattutto per estirpare una cultura dell'odio che oggi non colpisce solo omosessuali e trans ma anche i migranti. A dettare i ritmi del ballo c'è il maestro Colasurdo un punto fermo della manifestazione sono in molti a sottolineare come da anni attendono una legge contro l'omotransfobia e ora c'è molta fiducia nell'attuale governo affinché si arrivi ad una normativa in materia specie dopo le ultime aggressioni subite da ragazzi e ragazzi per il loro orientamento sessuale assente invece la storica madrina dell'evento Vladimir Lusturia che ha partecipato ad alcuni incontri precedenti all'appuntamento ma è mancata nel momento gru per altri impegni intanto anche Mercogliano con il sindaco Vittorio D'Alessio alla sua prima candelora da fascia di colore si mostra come cittadina dell'accoglienza e dell'ospitalità contro ogni forma di discriminazione E adesso le ultime sul Benevento Calcio con Domenico Passaro Se non puoi vincerla allora non devi perdere e il Benevento si tiene stretto il punto del derby nella giornata in cui tutte le altre invece si sono completamente fermate sotto riflettori del vigorito Giallorossi e Salernitana hanno dato tutto per dar vita ad una gara degna di un derby A gol di Juric ha risposto un Marco Sao sempre più protagonista quando al calare dell'intensità dei forse nati Granata è venuta fuori la qualità dell'indiscus padrona della Serie B a macchiare la giornata una direzione arbitrale non sempre lineare specie quando proprio l'ultimo sospiro il rosso sventolato ad Improta non ha tanto compromesso l'andamento della gara al tramonto quanto il prossimo futuro che si materializzerà a Cosenza dopo che Inzaghi aveva già perso per infortunio Oliver Kragl è quanto sottolinea lo stesso Pippo Inzaghi che accetta il risponso del campo non proprio tutto il resto A me dispiace solo essere rimasto in dieci in una partita dove ci hanno fatto tantissimi falli e dove non potevamo rimanere in dieci noi ma doveva esserci un altro metodo di giudizio se il metodo di giudizio era quello Improta non andava neanche ammonito perché non colpisce neanche l'avversario perderemo un giocatore e io alla fine accetto sempre il risultato del campo non accetto oggi quella cosa che ho detto prima quello non l'accetto L'infortunio del tedesco si aggiungerà a quello di Teglio e Tuia più avanti nel recupero oltre alla squalifica che arriverà per Cristian Maggio occasione con ogni probabilità di vedere in giallorosso per la prima volta l'ultimo arrivato ai piedi della dormiente Federico Barba martedì giallorossi torneranno a lavoro con la trasferta calabrese ancora notturna nel mirino e come dice Oliver Kragl non si molla mai Sul campo del Bisceglie Ravellino non va oltre l'uno a uno collezionando il secondo pareggio consecutivo a fine gara il vice allenatore Padovano ad analizzare il momento dei lupi Dobbiamo guardare sopra in assoluto dobbiamo anche considerare che oggi la Sicula che è penultima quinto ultimo se tu hai più di otto punti non fai spareggio quindi dobbiamo considerare tutto è normale che noi guardiamo entrambe le situazioni perché abbiamo l'obbligo di guardare in basso e in alto cercando di migliorarci domenica dopo domenica cercando di portare in porto ciò che ci è stato chiesto che è la salvezza e lo voglio ripetere ancora una volta poi tutto quello che verrà e questa è una squadra che lo ha nelle corde sarà ben accetto per tutti quanti noi per primi voi la città la tifoseria la società e tutti quanti i nuovi acquisti sono ragazzi tutti di spessore di curriculum quindi parliamo di gente che è oltre i 30 se vogliamo Pozzerbonne e Ferretti e San Domenico è alla soglia quindi poi non voglio dimenticare gli altri perché anche chi non è entrato come Rizzo come Garofalo stesso sono giocatori che possono darci qualcosina questo è un gruppo importante dove va sottolineato tutto quello che è stato fatto prima dai ragazzi perché eravamo corti numericamente e hanno dato tutto oltre le loro capacità e continuano a fare sempre il proprio dovere probabilmente ci manca quel pizzico di furbizia e di esperienza che in alcune partite avevamo che adesso magari ci sta mancando leggermente sotto il profilo dell'attenzione e della concentrazione i chiacchiere che io leggo e sento sui giornali a me non riguardano perché sono cose di competenza dove magari metteranno a posto tra soci ritengo però la squadra è immune a queste cose nel senso che siamo abituati perché venivamo già da una situazione pregressa quando si è iniziato noi non c'eravamo ancora dove l'Avellino magari ha avuto qualche difficoltà nell'inizio però è partito e penso che la squadra comunque sia facendo qualcosa di importante sul campo nonostante ci manchi e recriminiamo su qualche episodio e poi bene è tutto adesso vi lascio al meteo regionale muoversi in campania grazie per essere stati con noi buonasera il meteo è presentato da grazie per la visione Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Muoversi. Infomobilità in Campania. In chiusura vi informo che lunedì 3 febbraio è previsto uno sciopero di 24 ore del servizio di trasporto pubblico ANM. Tutti i dettagli come sempre al nostro sito, l'indirizzo www.muoversi.regione.campania.it. Da Acamir Muoversi in Campania, Nunzia Canfora. Grazie a tutti.